ciao benvenuti sul mio canale jessica a s m r allora in realtà questo è davvero un brevissimo video che metterò così a caso stasera che è il ve lo dico subito 18 aprile semplicemente perché io e la mia ragazza ci siamo tagliate i capelli abbiamo fatto questa pazzia e quindi volevo farmi vedere con i capelli nuovi fatemi sapere sotto nei commenti che ne pensate a me piacciono tantissimo ovviamente poi video che vedrete nei prossimi giorni fino ai primi di maggio saranno coi capelli lunghi con la coda eccetera perché appunto li ho registrati prima però volevo farvi non lo so così una sorpresa diciamo e prepararvi video dopo la prima settimana di maggio saranno coi capelli così quindi niente sono un sacco felice giuro mi piacciono tantissimo tra l'altro colgo anche l'occasione per dirvi che se volete supportare il canale e avere il video dedica perché come sapete faccio sempre video dedica per ogni regalino che mi arriva vi lascio qui sotto nell'info box come sempre il link per la wishlist di amazon ho aggiunto anche altre cosine stracarine e ovviamente poi oltre a farvi appunto il video dedica mi raccomando lasciate sempre nel bigliettino il vostro nome così so archivare il video dedica li utilizzo anche sempre in live e cose del genere le cose che mi arrivano dalla wishlist per chi mi segue lo sa e appunto magari qualcuno ne vuole approfittare in vista del mio compleanno che sarà il primo maggio quindi troppo pochissimo e niente mi farebbe davvero un sacco piacere piacere tra l'altro per chi me l'ha chiesto sotto il video in cui vi ho fatto vedere i tuoi libri di ritannarti ovviamente liberi come il vento l'ho letto tipo in tre giorni massimo quindi ho già registrato prima di questo video la recensione però appunto la vedrete verso i primi di maggio cioè verso la prima settimana di maggio perché appunto per aprile è già tutto pieno però sappiate che l'ho già registrato e che appunto uscirà quindi ho fatto un piccolo spoiler però almeno chi me l'aveva chiesto sa che a parte che sicuramente l'avrei portato però sapete che lo porterò nel breve tempo ecco non tra dieci anni ecco quindi vi dico solo che l'ho amato quindi poi se siete curiosi vi aspetterò nei commenti del video che uscirà a maggio tra l'altro anche per il primo maggio proprio la sera come faccio ogni anno vi ho preparato molto prima cioè questa volta l'ho girato tipo a marzo il video da portarvi appunto come speciale per festeggiare diciamo il compleanno insieme e quindi anche quello già programmato uscirà il primo maggio alle 9 se non erro quindi è già tutto programmato state tranquilli 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 però ovviamente siccome sono tornata col bot sono tornata strattiva ho registrato e voglio registrare sto registrando un sacco di video appunto così da poterli programmare da non restare mai senza quindi ovviamente registrandone tanti ne escono diversi però nel come posso dire ci vuole un po' più di tempo ecco cioè non è che dici ne registri una settimana quindi spero comunque che vi piaccia questa cosa questa mia attività su youtube perché io ci tengo davvero un sacco e vedo che vi stanno piacendo molto i miei video quindi sono un sacco felice davvero grazie 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 mille volevo anche ringraziarvi perché siamo quasi a 6.000 iscritti 6.000 6.000 iscritti che per me sono davvero tantissimi sono partita da zero come tutti non mi ha aiutata nessuno ho fatto tutto da sola e con voi quindi grazie 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 mille per questo traguardo che raggiungeremo a breve però come speciale diciamo essendo che l'ho fatto per i primi 1.000 iscritti per i 5.000 iscritti quindi credo che lo farò per i 10.000 iscritti quindi speriamo per me è un sogno veramente sapere che tutte queste persone si sono iscritte al mio canale davvero quindi diciamo che questo è un video un po' interamente dedicato al whispering alle ultime novità queste cose sono un po' interesse so che vi piacciono un sacco i miei movimenti delle mani e niente raga spero che questo breve video vi sia piaciuto vi aspetto sotto nei commenti lasciate un like ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video io vi mando tantissimi miei capagioni e vi auguro una buona e stupenda notte e ci vediamo alla prossima buonanotte buonanotte buonanotte